Domanda che proviene dalla chat non lo so se abbiano già toccato questo argomento ma Nel dubbio di ascoltare una risposta pensate in futuro di togliere la maschera C'ero io no no per gli la maschera cade live 1 cade vai due Io mi trovo bene così c'è solo un po sbatti per quando fai le storie Un certo punto dove non riesce a starci e anche secondo me devi tanto affidarti al tuo pubblico cambia rischio l'ho visto tanto a lei ma credo che anche lui c'è io lei ma non si sciogliano fatto di quelle pezzate quando mi ha fatto il ritrovo allo stand mettono per cambiare la mascherina change di mascheri c'è robe Lasco un secondo arriva uno arriva l'altro arrivano in gruppo arriva un altro gruppo foto 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 io invece sì in due occasioni la prima al mio primo film 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 cioè il tuo pico Cosa vuol dire voi farò c'è c'è in ballo io non ancora sto Sto spingendo parecchio per perché vorrei anche trovare un aiuto per realizzare un film mi piacerebbe fare un film sulla mia vita perché ho talmente tanti di quei colpi di scena da farci un film e poi è sempre una cosa che ho sempre dire c'è una roba che vorrei dire ma non posso dire l'aria e oppure non so un traguardo importante della mia vita non so magari una volta migliore tipo il migliore ma no non parlo di di follower parlo proprio di vita personale Magari una volta che farò un figlio che mi sposerò qualcosa smettere non lo so no facciamo al film No invece raga ma io mi stavo perdendo via C'è una cosa di cui non abbiamo parlato ma che Raga Daniel Valperta lo invitiamo È un botto bello Lo invitiamo Aspetta posso dire una cosa Noi avevamo bannato la parola Daniel Valperta giusto? Può essere Aspetta vi spiego Penso temporaneamente Perché lo scrivano sempre no? E quindi io non vorrei che la gente fosse andata a dire a Valperta Che ci sta sul cazzo solo perché era bannata come lui ma forse anche Pirin l'avevano bannato No ma guarda che temporaneamente Anche ora ci saranno delle parole bannate che poi dopo sbagliamo Se c'è se la chat continua a scrivere No c'era stato un periodo dove mi ricordo che Valperta non si poteva scrivere Non so Che avevo chiesto io personalmente al mod di Comunque Comunque raga noi invitiamo Lorenzo ci ha donato un euro provate a chiedere a Frasca E' vero a Frasca potremmo invitare Il primo dei motori o a corse Corse ci ha pisciato Che parla male di noi Davvero Tra l'altra roba di prima Anche io sono molto difficile Sembra strassoso Infatti non ho mai fatto niente Non so perché mi ha detto che parla male di noi Cioè io zio ti giuro non c'ho mai niente Ah ma non ve l'ha detto lui No 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 Lui ha detto fonti affidabili Sì